buongiorno a tutti oggi parliamo di nato cercheremo di capire meglio che cos'è la nato e come funziona veramente sul campo rispetto a quello che ci raccontano in televisione ne parliamo con un autore e reporter di guerra filippo rossi ciao filippo come stai ciao massimo buonasera buonasera tutti tutto bene grazie allora filippo rossi è l'autore di un libro dal titolo molto poco ambiguo nato per uccidere quando l'hai scritto quanto tempo fa lo hai scritto il libro è stato pubblicato nel 2023 scusate nel 2024 quest'anno però ci sono voluti cinque anni per prepararlo quindi la stesura iniziata cioè la ricerca è iniziata nel lontano ormai lontano 2019 ok allora io farei una cosa prima di prima di andare nei vari dettagli diciamo subito una cosa che filippo ha passato un lungo periodo in afghanistan come reporter ha visto molto da vicino soprattutto quello che è successo in afghanistan però parliamo del tema della nato in generale prima allora abbiamo due nato praticamente nella storia la prima è da quando nasce dopo la guerra mondiale fino alla caduta del muro di berlino che è improntata dal periodo della guerra fredda e quella ci interessa di meno rispetto a quello che vogliamo quello di cui vogliamo parlare oggi l'altra invece la nato del dopo caduta del muro di berlino quindi dal 1990 in poi quello che ha fatto nel mondo e che cosa è diventata la nato è diventata praticamente il braccio armato delle potenze occidentali e degli stati uniti in primo luogo allora filippo intanto dimmi una cosa quali sono le le principali operazioni internazionali per cui la naso la nasa la nato è famosa e da partire dal 90 in poi le più le più grosse partiamo immagino dalla serba dal kosovo a venire in avanti quali sono le operazioni internazionali internazionali quali si è più distinta per la sua presenza sicuramente beh dobbiamo partire dal conflitto in yugoslavia senza citare altri conflitti a margine che comunque non sono stati che sono meno conosciuti o sono conosciuti per altri per altri fattori io chiamerei anche disinformazione comunque altre altre storie che non che non sono state raccontate poi ovviamente ci dobbiamo concentrare sull'invasione prima l'invasione afghana quindi l'afghanistan nel 2001 poi l'iraq nel 2003 per poi saltare a le primavere arabe quindi all'arrivo alla libia e alla siria ovviamente e poi tutte le operazioni congiunte fino ad arrivare all'ucraina negli ultimi negli ultimi anni però quelle sono le operazioni salienti dove la nato veramente si è distinta e ha mostrato veramente il la sua la sua lì la sua immagine peggiore quindi ha dimostrato e ha chiaramente dimostrato a tutti di che cosa è capace qual è il suo vero il suo vero obiettivo che non ha nulla a che vedere col mantenimento della pace come possiamo leggere su tutti i siti internet di propaganda mainstream diciamo ecco chiaremo una cosa intanto e filippo è collegato col telefonino la qualità non è eccezionale purtroppo all'ultimo momento è saltato il collegamento col computer quindi facciamo di emergenza allora io sulla questione jugoslava del kosovo una cosa me la ricordo ancora non ero grande anzi non ero affatto esperto in geopolitica però ricordo già mi sembra il 98 97 quando io vivevo a los angeles e cominciavo andare in internet e cominciavo a leggere queste notizie ridondanti ripetute martellanti dei poveri albanesi che venivano sistematicamente massacrati dai serbi in kosovo e mi è venuto un primo sospetto non ho mai messo a fuoco bene ma mi sembra dopo poi l'ho ricostruito ovviamente mi sembra di ricordare che bene o male fosse in realtà un'operazione occidentale quindi americana soprattutto con clinton per colpire alle caviglie la serbia e di riflesso anche la russia se non ricordo male cioè non era affatto una questione umanitaria per i poveri albanesi del kosovo ma era qualche cosa contro la serbia che faceva parte della disgregazione di tutta la jugoslavia è giusto come come angolazione direi di sì direi di sì in verità cioè poi chiaramente si può andare molto a fondo bisogna partire anche dal dal principio di capire chi era chi era veramente la famosa che lei luci k no il movimento di liberazione del cosovo che si è stato finanziato un po come i mujahid in afghanistan negli anni 80 con con i proventi del narcotraffico per mano della cia quindi erano uomini della cia infatti poi il cosovo è diventato un narco un narco stato a tutti gli effetti questo dopo chiaramente la l'indipendenza tutti i problemi che ne sono costruiti è stato chiaramente un un paese creato dal nulla che è stato strappato un territorio strappato alla serbia apposta per come dicevi tu creare un attrito e togliere egemonia alla serbia e chiaramente di riflesso alla russia perché sappiamo tutti che la serbia è molto legata alla russia e questo non solo ha permesso questo indebolimento e ancora questa balcanizzazione della dell'area ma anche permesso di creare agli stati uniti un hub come si dice oggi per lo smercio del della droga soprattutto dell'oppio afgano tra l'altro è una cosa che parla anche nel libro in in tutta europa quindi è la porta d'accesso della droga in europa il cosovo non l'unica e voglio essere chiaro però una delle principali da dove la nato comunque i soldati e l'esercito statunitense e britannico portavano fuori portavano via dall'afghanistan i carichi di oppio e non solo e li portavano o già delle rovina raffinata li portavano in kosovo infatti la base in kosovo le persone che vivevano nelle aree limitrofe appunto ci sono tante testimonianze di kosovari ignari del grande progetto che raccontano queste cose di come la droga fosse smerciata proprio da lì è incredibile certo infatti parlando dell'afghanistan capiremo anche meglio allora l'afghanistan è il non solo il blocco grosso dell'intervento della nato durato vent'anni ma è anche il cuore del tuo libro tu nella nel tu hai scritto rispetto al tuo viaggio in afghanistan leggo che mi è piaciuta molto questo passaggio dici un viaggio che mi ha arricchito molto ma mi ha anche aperto gli occhi sul vero operato occidentale della nato degli stati uniti che hanno imbevuto di menzogne il mondo intero sui loro intenti pacifici per decenni giustificando l'uso di una violenza sistematica e brutale contro una popolazione traumatizzata con la menzogna della lotta al terrorismo e peggio ancora mascherando i misfatti e i crimini con impunità silenzio censura e nel caso americano in particolare evitando di aderire ai trattati internazionali per proteggere i propri interessi tu quando sei andato in afghanistan e quanto ci sei rimasto in afghanistan sono rimasto sono rimasto per degli anni in verità ho fatto il ponte spesso poi ho vissuto tanti anni in turchia tanti anni degli anni in turchia quindi facevo il ponte fra istanbul e kabul e ho seguito gli ultimi quattro anni di occupazione più i primi due di del nuovo regime talebano chiaro anche la mia età appunto non mi permetteva altro perché ero anche giovane però la la cosa che forse sono riuscito ad approfondire di più ma anche avuto la apertura mentale cosa che tanti colleghi purtroppo non avevano questo non è che io lo dico per innalzarmi ma semplicemente un dato di fatto è che io sono andato al di là della propaganda occidentale quindi tutto quello che era stato costruito intorno al conflitto afghano quindi le varie menzogne diciamo sull'operato della nato i crimini che aveva commesso la nato ma non soltanto anche a livello sociale quindi la condizione femminile eccetera eccetera sono andato al di là per capire che cosa ci stava dietro e quindi mi sono reso conto che c'erano delle cose che non funzionavano e soprattutto che c'erano dei crimini che non erano stati possiamo definire non erano stati non gli era stato dato giustizia ecco esatto quindi quando mi sono accorto di questo me ne sono accorto prego no io ne ricordo alcuni appunto lì seguivo ancora poco la geopolitica però ricordo un paio di casi nei quali c'era ogni tanto usciva sul giornale qualcosa tipo massacrate 100 persone in un matrimonio che non c'entravano niente però io avevo sempre l'impressione che fossero così degli episodi casuali degli episodi così incidenti degli incidenti veri e propri poi invece a quanto sembra di capire non era così era un sistema e naturalmente il l'afghanistan parte dall 11 settembre tutti sappiamo che virgolette è stato bin laden che ha buttato giù le teorie gemelle quindi abbiamo abbiamo dovuto andare tutti a prendere bin laden siamo partiti in quarta anche se i talebani mi ricordo che dissero il 16 di settembre quindi 5 giorni dopo gli attentati fecero una dichiarazione ufficiale di so guardate che se volete bin laden non c'è bisogno che veniate voi a prenderlo ve lo diamo noi basta che ci facciate vedere le prove che lui è coinvolto poi dopo di che ve lo diamo sicuramente ovviamente la casa bianca rispose no no ormai abbiamo organizzato già tutto veniamo lo stesso ecco eh tu hai scritto il pretesto dell'11 settembre che ha stravolto tutto il mondo è servito fra le altre cose anche a giustificare l'occupazione dell'afghanistan di fatti se andiamo a scavare a fondo negli eventi che hanno preceduto l'invasione del 2001 possiamo scoprire molti dettagli scottanti fra i quali un progetto di costruzione per un gasdotto di interesse di compagnie petrolifere possedute da persone vicine alla nuova ministrazione bush eh presenza di ingenti risorse naturali nel paese fra cui litio oro gas e rame e infine uno dei motivi più importanti la droga l'oppio proviene per circa 80 90 per cento dall'afghanistan e fornisce un mercato che ha una cifra d'affari annua di circa 500 miliardi di dollari io in proposito mi ricordo una cosa poi ti do il via ti faccio raccontare ma mi ricordo che nell'estate del 2001 io stavo a los angeles e un giorno guardavamo era agosto fine agosto no a metà agosto guardavamo la cnn io e mia moglie avevo l'abitudine di guardare la cnn il telegiornale e a certo punto vedo questa notizia di questi talebani che io non sapevo chi fossero che avevano interamente bloccato la produzione doppio in afghanistan notizia data così talebani hanno bloccato la produzione io mi ricordo che pensai dissi a mia moglie guarda non mi stupirebbe che gli americani si inventassero una scusa per saltare addosso all'afghanistan perché già sapevo allora non ero molto esperto però già sapevo per esempio che appunto il la cia tutte le black ops vengono finanziate soprattutto con la vendita della dell'eroina e dissi proprio questa frase guarda caso sei sei settimane dopo neanche e osama bin lader della sua grotta attaccò le torri gemelle comunque a parte questo ricordino qui elaborato su quello che abbiamo detto cioè abbiamo parlato di gasdotto di gasdotto di presenta di ingenti risorse naturali per il paese e appunto la droga quindi bin lader non c'entrava niente non davamo a prendere bin lader allora a questo punto spettacolare no beh bin lader è stato è stata è stata una copertura clamorosa allora che allora che bin lader fosse in afghanistan è un dato di fatto perché bin lader ho conosciuto un sacco di afghani che l'hanno conosciuto personalmente no anche elogiando dicendo che era un ottimo un ottimo fedele musulmano era un grande personaggio insomma voglio dire me diceva di colori poi alla fine diceva vabbè ma allora vuol dire che sto bin lader esisteva sul serio quindi l'hanno messo lì un po anche per dire ok esiste un bin lader che c'è va bene però nessuno è andato a scavare chi fosse veramente bin lader perché io mi ricordo massimo io ero molto piccolo avevo 11 anni quando quando accadero i fatti dell'11 settembre mi ricordo come in 4 e 4 8 questa è una roba che mi si è rimasta impressa come in 4 e 4 8 si organizzano il giorno dopo l'attentato si sapeva già che era usama bin lader ad aver organizzato tutto molto strano e un mese dopo semplicemente solo un mese dopo l'11 settembre si era già tutti pronti ad andare in afghanistan no voglio sorprenderti con una cosa che ho messo da parte questo è un fotogramma tratto dal mio film il nuovo secolo americano adesso te lo faccio vedere questa è una ricostruzione della scaletta dei tempi diciamo la timeline del filo all'11 settembre ricostruita da time magazine fu pubblicata anche mi sembra da da chicago tribune da un'altra attestata importante allora questa è la scaletta come vedete al 10 di settembre senza facendo finta di niente time magazine mette come come evento dice praticamente lì lo vedete il primo riquadro in rosso sotto dice 10 settembre un progetto cia di attacco ad al-qaeda in afghanistan con pesante supporto dell'alleanza nord è messo sul tavolo di bush in attesa del suo ritorno dalla florida cioè praticamente nessuno sapeva che l'11 mattina ovviamente nessuno lo sapeva che bin lader avrebbe attaccato le torri gemelle ma il 10 sera c'era già pronto un piano militare di invasione per l'afghanistan sul tavolo di bush pronto ad essere firmato nel presidente sul ritorno dalla florida ecco allora appunto alla luce di queste cose qua che poi quando vengono quando vengono a quando quando emergono sono tutti rimangono sempre sbalorditi oddio ma non lo sapevo non me l'aspettavo adesso bisogna essere un po più pronti in questi casi no al giorno d'oggi quando succedono determinati eventi bisogna essere un po più perspicaci no e cercare di capire immediatamente però al di là di questo ritornando all'11 settembre le cose si erano messe sì un piano per l'invasione dell'afghanistan c'era già anni prima perché ci sono stati indizi ma clamorosi che al giorno d'oggi sono provati li potete trovare anche su wikipedia dico wikipedia proprio perché è lo strumento usato da tutti per prendere le disinformazioni quindi se lo scrivono anche loro vuol dire che è proprio vero per loro anche appurato e vabbè insomma per dire che il signor il signor bush si sapeva già che sicuramente george w bush sarebbe stato eletto aveva già preparato la sua amministrazione e chi ha messo nella sua amministrazione ha messo tutti i petrolieri o comunque persone che si sono occupate del settore petrolifero come diccini condolisa rice eccetera eccetera però c'è di più perché nel 96 adesso senza raccontarvi tutta la storia il progetto tap quindi il progetto del gasdotto che doveva portare gli ingenti gli ingenti giacimenti cioè il gas che era stato trovato in turguenistan che era un giacimento fra i più grandi al mondo forse secondo addirittura il primo doveva portare attraverso l'afghanistan tutto il gas sulle coste del pakistan per poi essere trasportato ebbene si chiamava tap turkmenistan afghanistan pakistan nel 96 c'erano già i talebani talebani hanno detto all'inizio sì e quindi noi abbiamo le foto di alcuni rappresentanti del governo talebano dell'epoca che si erano presentati addirittura a houston in texas per andare a visitare le industrie petrolifere e del gas insomma voglio dire c'era una roba abbastanza strutturata perché una compagnia chiamata unocal americana aveva deciso di prendere l'appalto di occuparsi di questa di questa cosa della costruzione di questo gasdotto cosa è successo è successo che a rientro dal da houston i talebani improvvisamente dicono di no dicono no noi non vogliamo più saperne nulla molto strano perché poi era sicuramente una un'opportunità importante per loro per cercare una stabilità per il paese ma poi io vi spiegherò spero in questa puntata come effettivamente poi talebani siano sempre stati un prodotto americano quindi in realtà loro sapevano già facevano già il gioco degli americani e poi c'è stato tutto quello che riguardava l'oppio come hai detto tu prima massimo leggendo l'estratto del mio libro l'ottanta 90 per cento di oppio è prodotto in afghanistan ancora oggi questo cosa significa che gli oppiace non soltanto l'eroina come tutti pensano ma gli oppiace che servono anche per le medicine che usiamo quotidianamente no servono servono come il pane e quindi è un business troppo grande 500 600 miliardi di dollari fanno diciamo fanno gola a chiunque e una fatua quindi una diciamo una dichiarazione religiosa che poi può prendere forma legale nel diritto islamico da parte del mullah omar nel 97 che disse che dichiarava no adesso noi dobbiamo interrompere la produzione di oppio potete immaginare che effetto avuto sul mondo intero no soprattutto sul mondo occidentale ma infatti quindi cosa è successo che avevo avuto io non sapevo ancora tutte queste cose in retroscena però quando sentivo la cosa dell'oppio che avevano fermato la produzione doppio automaticamente mi venne da dire vedrai che gli americani gli saltano addosso perché non c'era altra possibilità a quel punto e purtroppo ci avevo beccato in pieno vabbè e c'è poi infatti infatti cosa è successo noi adesso i dati esattamente non non ce li ho la mano però se noi andiamo a vedere i dati della produzione di oppio perché quella roba importante nel 96 visto che poi ricordiamo guerra civile afghana quindi 92 95 l'oppio è utilizzato dai mujahidin che avevano combattuti i russi ma che ora si combattevano fra loro i vari massudek matiar mazari eccetera eccetera per finanziare la continuazione della guerra civile quando arrivano i talebani dicono basta e quindi era una produzione di più o meno diciamo mille tonnellate all'anno di oppio si era passati nel 2001 quindi qualche mese prima dell'11 settembre a semplicemente 83 tonnellate quindi avevano distrutto praticamente il 90 per cento delle piantagioni di oppio una cosa clamorosa perché chiaramente non c'era più non c'era più non c'erano più piace in giro e quindi cosa succede succede che dopo l'11 settembre con l'inizio dell'occupazione della nato il mercato dell'oppio sebbene qui e ve lo ricorderete bene con tutti gli articoli che venivano pubblicati sul sul fatto che gli americani e che le organizzazioni internazionali combattessero la produzione di oppio in afghanistan la produzione di oppio in afghanistan da 83 tonnellate già nel 2003 era passata più di 3000 e ha toccato dei picchi mai visti nel 2017 con addirittura sopra le 10.000 tonnellate c'è una roba una roba che dovete immaginarvi e poi non e poi è subentrata subentrata anche il mercato delle anfetamine delle metanfetamine perché si è scoperto che in afghanistan c'è una pianta naturale che permette di creare la stessa droga che normalmente è creata in laboratorio e quindi si è creato anche tutto quel mercato lì e come nella seconda guerra mondiale perché ricorderete come diciamo le industrie che erano state sostenute e costruite da dai vari fondi americani anche in afghanistan stranamente erano le fabbriche di eroina di raffina le raffinerie di eroina o di metanfetamine che non venivano mai bombardate no venivano bombardate quelle in disuso e dicevano abbiamo bombardato e chi portava fuori l'eroina gli spalloni dal che andavano in iran certo che no la maggior parte dell'eroina o del dell'oppio grezzo veniva trasportato tramite i tre aeroporti principali ovvero kandahar agram e kabul e adesso vi potete spiegare come mai per due o tre anni sono andati avanti dopo l'arrivo dei talebani a litigare questo vi parlo di due anni fa per chi controllasse l'aeroporto gli aeroporti mirati arabi uniti qatar e turchia questo cosa significa significa che loro combattevano io questo lo so per fonti certe e insider dentro negli aeroporti eccetera eccetera combattevano per la droga non combattevano perché come diceva la nato si era rotto il radar improvvisamente nessuno poteva atterrare a kabul loro non volevano atterrare a kabul no semplicemente perché non avevano il controllo del commercio della droga punto quindi la droga è stata è stato un diciamo un contesto uno dei precisi principali di questa di questa occupazione e c'è i contadini poi chiudo massimo è una cosa però importante da dire i contadini afghani terrorizzati sapevano benissimo di queste cose sapevano di come nelle basi nato venissero nelle basi nato discoste vi parlo di basi nato che non di cui non ha mai parlato nessuno non quella di kandahar di bagram quelle venivano soltanto usate come luoghi di decollo ma c'erano delle basi nato sparse per tutto il paese che erano veramente i luoghi sconosciuti e remoti talmente remoti che questi qua prendevano le prendevano le la refurtiva non soltanto l'oppio ma tante volte la hashish oppure prendevano il litio rubavano rame rubavano tutte le risorse naturali le portavano nelle loro basi poi con gli elicotteri le trasportavano nei grandi aeroporti e dai grandi aeroporti le trasportavano soprattutto dove o nelle basi in turchia di ingerli che era la base nato principale è tuttora oppure è in kosovo come si diceva prima ebbene ultima cosa e poi mi fermo c'è una correlazione fra il commercio di oppio scusate fra la produzione di oppio e il la la diciamo la 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 violenza quindi dove c'erano le aree con maggiore violenza in afghanistan erano le aree con maggiore produzione di oppio direttamente proporzionali questo cosa vuol dire vuol dire che loro erano d'accordo perché questo io lo so e lo ho sentito troppi combattenti che mi dicevano queste cose di gente di tedeschi alti comandi tedeschi oppure americani che dicevano passati i soldi ai talebani dall'altra parte roba dell'altro mondo veramente che vi fa capire come tutta la presa in giro tutta la messa in scena queste correlazioni qua voleva dire che nel nella provincia di helmand nel sud e nella provincia di nang rahar nel nord est quindi già l'alabad o oppure sanguin quindi erano i distretti dove veniva la c'era la produzione più grande di oppio era anche dove c'era la cunar c'erano la concentrazione maggiore di combattimenti fra talebani forze repubblicane o forze nato questo cosa significa significa che loro approfittavano del caos per conquistare per non avere nessuno in giro che rompesse le scatole per fare i loro affari eccetera eccetera una correlazione diretta la guerra è eseguita soltanto a quello mamma mia ragazzi adesso parliamo invece di come agisce sul campo la nato che queste erano le motivazioni no quindi a noi hanno raccontato che invece andavano a prendere bimbi va bene lì alla favoletta ormai ci siamo abituati queste erano le motivazioni principali quindi il gasdotto dal Turkmenistan per portare il infatti mi ricordo che tre mesi dopo nel febbraio del 2002 venne firmato il famoso accordo per il gasdotto che doveva attraversare l'afghanistan arrivava in pakistan dove riempivano le navi che poi andavano a portare il gas e soprattutto in cina in giappone diciamo vediamo mettere sul campo cioè su quello tu l'hai vissuto sul campo quello che hai visto quello che è successo tu hai scritto la nato ha agito quando si in afghanistan in due maniere principali i raid notturni con soldati che assaltavano singole case o villaggi interi improvvisamente nel cuore della notte dove avevano saputo che c'erano sospetti talebani o terroristi spesso le informazioni erano sbagliate oppure attraverso i bombardamenti mirati fra virgolette tutto questo mi ricorda qualcosa di molto recente che sta succedendo adesso per questo ho letto voglio leggere sto passaggio oppure attraverso i bombardamenti mirati il maggior numero di vittime è avvenuto chiaramente attraverso i bombardamenti tuttavia i raid notturni hanno traumatizzato la popolazione in maniera indelebile il poco rispetto alla brutalità e la freddezza usata dalle forze nato hanno creato un odio irreparabile da parte degli afghani nei confronti degli occidentali la nato ha sempre dichiarato di voler mitigare le vittime civili suona anche questa ma in realtà negli anni le cose non sono migliorate bensì peggiorate hanno tutti una mira pessima purtroppo per quanto ci provino a evitare i problemi civili tutta sta gente sarà mira pessima vedi sono peggiorate soprattutto con l'arrivo dell'amministrazione trump i bombardamenti erano seguiti da una costante negazione e disinteresse da parte dell'establishment occidentale che negava fino a prova contraria e ancora in tal caso rifiutavano di ammettere la loro colpevolezza allora ci sono possiamo toccare mille punti su questa cosa massimo voglio dire allora partendo un po allora innanzitutto partendo dall'attualità noi possiamo trovare un sacco di analogie con quello che è successo o che succede tutto in ucraina quello che succede in libano proprio adesso quello che succede in tanti altri contesti che è successo in tanti altri contesti quindi le analogie sono sempre stesse perché la strategia di base non cambia no cambiano le tattiche le operazioni cambia il terreno cambiano e cambiano le fazioni eccetera ma la strategia di base non cambia e ricordatevi perché io ci tengo sempre a dire questo che a quei livelli lì a partire dal piccolo dettaglio nulla è lasciato al caso quindi questa è una cosa importantissima quando la gente poi tende a dire ma com'è possibile che uno si permetta di fare una roba del genere senza prima non è vero l'hanno studiata e l'hanno studiata bene quindi non ci sono scuse partendo dal caso afgano si possono capire appunto queste operazioni quanto il civile in guerra che che ne si dica di convenzioni protocolli leggi della guerra legge umanitaria internazionale in verità il civile è sempre una vittima ed è sempre uno strumento politico in afghanistan non ha fatto eccezione questo perché possiamo dirlo veramente ad alta voce quello che è successo con i raid notturni quindi adesso non mi dilungo sul fatto che all'inizio dell'occupazione e quando è cominciata l'insurrezione talebana chiaramente pilotata perché voi potete immaginare come per vent'anni sia possibile mantenere un alto tasso di combattia di diciamo i talebani hanno tenuto testa degli eserciti agli eserciti più forti del mondo per vent'anni senza perdere terreno anzi conquistandone eccetera improvvisamente perdono il paese ma questo è un altro discorso che potremmo fare a parte ora concentrandoci su quello che è successo i raid e bombardamenti sono sempre stati indiscriminati all'inizio i raid venivano commessi soltanto dai soldati americani o stranieri potevano essere italiani anche olandesi francesi tedeschi eccetera quando entravano nelle fasi scusate i raid notturni si sguardo i raid notturni e quindi della 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 popolazione e contro la popolazione civile proprio dei soldati parte di soldati operazioni terrestri loro entravano nelle case e quindi questo faceva infuriare gli afghani perché nella loro cultura vabbè che anche voglio dire non è che se un soldato entra in casa nostra siamo felici però nella loro cultura in particolare la protezione della famiglia la protezione della donna in particolare eccetera eccetera bene questa è una cosa cosa è successo dopo anni che bombardavano e attaccavano di notte le i villaggi quindi facendo sacco di prigionieri innocenti portandoli nelle prigioni di bagram che erano delle prigioni con condizioni pessime ne parlo anche nel libro di una persona ingiustamente arrestata che sia che ha passato forse dieci anni della sua vita in una prigione vendato con torture psicologiche eccetera eccetera oppure bombardamenti che avvenivano su coordinate completamente sbagliate dove spesso venivano colpiti centinaia di civili e la negazione era sistematica cioè si partiva subito dal presupposto che fossero tutti dei talebani quindi tu sei un talebano soltanto perché c'è un turbante c'è la barba e sei musulmano era quella l'immagine che ci avevano anche tanti giornalisti ebbene la cosa interessante da notare qua è che nel 2012 le cose cominciano a cambiare ovvero la nato e l'alto comando delle dell'alto comando americano si rende conto che stanno perdendo la popolazione ovviamente perché stanno avevano decimato la popolazione avevano combinato di tutti i colori addirittura c'erano questi squadroni della morte che erano dei criminali soprattutto non soltanto soldati americani ma anche soldati australiani eccetera che andavano e facevano questi diritti della morte dove per svezzare le nuove reclute sparavano obbligavano un giovane a sparare a un civile innocente eccetera e hanno combinato di tutti i colori finché la popolazione ha detto boh adesso basta e Karzai ha detto adesso noi prendiamo in mano i raid notturni e quindi automaticamente con l'opinione pubblica scandalizzata anche soprattutto dagli afghan leaks che erano usciti in quegli anni cosa hanno fatto hanno dovuto dobbiamo cambiare le tattiche perché qui non funziona più e quindi cosa è successo intervenuta la cia creando delle unità speciali nascoste che erano tipo dei dei contractors come i black waters per esempio però loro venivano già dagli stati uniti afghani e hanno creato questi queste unità che si chiamavano unit one unit 2 unit 3 eccetera eccetera che operavano su tutto il territorio afghano erano delle macchine della guerra omicide afghane ma americanizzate perché parlavano addirittura inglese fra di loro per non farsi riconoscere e questi non sono mai apparsi da nessuna parte e quindi automaticamente quando succedevano degli omicidi o dei raid notturni che facevano molte molte vittime gli americani o la nato dicevano ma noi non ne sappiamo niente perché noi non abbiamo fatto operazioni lì erano nascosti fino a che nel 2017 nel 2019 non mi ricordo più sono comunque cominciate a emergere queste parole qua vi dico soltanto che quando sono andato nel 2022 a host quindi in una di queste delle province più toccate da questi gruppi la gente aveva così paura ancora comunque c'erano già i talebani eccetera va così paura di parlare di queste persone che c'era ancora un tasso di omertà micidiale perché nessuno ne voleva proprio parlare dicono che dopo questo qua sa che sa che non sa una roba pazzesca e quindi loro hanno creato queste unità private e segrete proprio per continuare a fare le loro operazioni ma sbarazzandosi di tutto quello che era l'apparato mediatico che poteva essere scomodo eccetera eccetera e l'ultima cosa su cui voglio sottolineare proprio l'impunità voi avete un sacco di soldati che hanno commesso dei crimini o comunque dei governi che hanno commesso dei crimini con i loro eserciti che non sono mai stati processati e questo perché i soldati venivano occidentali venivano processati nei loro paesi quindi abbiamo soldati tedeschi che sono non sono stati processati non stati promossi per aver magari bombardato tipo il colonnello klein che è stato responsabile di aver bombardato due camion cisterna a Kunduz nel 2009 facendo 140 vittime civili il governo tedesco per anni è andato avanti a negare dicendo che erano tutti terroristi finché non sono arrivate le prove certe di alcune organizzazioni anche di avvocati di alcune delle vittime che hanno provato che erano che fossero tutti civili e non talebani il governo tedesco ha detto va bene vi ripaghiamo 5000 dollari a famiglia ma noi non ammetteremo mai che abbiamo ammazzato dei civili e soprattutto il colonnello klein è diventato brigadieri brigadiere klein è stato poi è stato promosso per la sua e di tanti colonnelli e tanti generali dell'esercito tedesco ce ne hanno due o tre due o tre case sono mi ricordo più i nomi se ne sono andati dall'esercito non me ne vado no e questo qua questo qua è stato promosso e questo anche l'esercito statunitense succedeva spesso quando venivano bombardati dei villaggi insomma e proprio c'è questo questo questa impunità proprio perché la 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 le convenzioni di ginevra i protocolli eccetera eccetera non venivano rispettati ma al giorno d'oggi come si può pensare che se uno stato che ha firmato una convenzione come quella di ginevra che per me ha valore zero o le leggi della guerra eccetera eccetera se non li rispetta uno stato che li ha firmati e li ha retificati come potete pensare che uno stato come israele li rispetti perché quando in verità non li ha neanche mai fermati capito voglio dire è uno scherzo quindi tutti gli stati non rispettano queste leggi perché non ci sono regolamenti ecco quello va detto una domanda nelle forze nato c'era anche l'italia in afghanistan tu il discorso che lei fatto lei lo fai per tutti uniformemente o hai delle differenze hai notato le differenze fra il comportamento degli italiani e quello degli americani per esempio o dei tedeschi o degli olandesi eccetera cioè si comportavano tutti allo stesso modo più o meno ci rende le differenze allora devo essere onesto sì no 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 importante era dire l'operato italiano allora io sono andato a nei 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 nella regione nella provincia di farà nella provincia di erat e soprattutto nel distretto di shindand dove poi gli italiani operavano spesso e ho chiesto specificatamente ci sono stati attacchi da parte delle forze italiane che hanno fatto vittime civili non ho trovato niente sicuramente c'è stato qualcosa ma le robe eclatanti gli italiani non le hanno fatte anzi gli afghani diciamo che per nella regione dove operavano gli italiani erano paradossalmente quelli che diciamo rispettavano di più i soldati della nato quindi vuol dire che c'è stato sicuramente un trattamento differente questo non vuol dire che gli italiani non abbiano compiuto eh dei crimini eh questo questo no però non hanno hanno compiuto dei crimini sicuramente hanno compiuto dei crimini minori rispetto per esempio agli australiani ai britannici agli americani ai francesi ai tedeschi e poi c'erano anche gli olandesi che erano molto cruenti i polacchi che si sono macchiati di sangue soprattutto nella provincia di Pactica ne hanno combinati tutti i colori eh anche loro tra l'altro sono tanti soldati sono stati processati non sono mai a Varsavia non sono mai stati neanche condannati eh gli australiani come abbiamo detto era uscito anche un rapporto molto scottante eh forse una ventina di soldati erano stati imputati sono tutti liberi eh gli americani c'erano questo famoso squadrone della morte che eh che invece penso di 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 dieci persone ancora due sono in galera adesso tutti gli altri stati graziati famoso Robert Bales che poi ha dato inizio a tutto il libro è andato per uccidere che ha ammazzato dicono sia stato da solo io non ne sono convinto sedici persone in una notte da solo nella provincia di Kandar nel 2012 condannato all'ergastolo poi Trump l'ha voluto graziare insomma voglio dire ci sono stati un sacco di 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 c'è stata proprio impunità da quel lato da quel lato e gli afghani lo sanno gli afghani ce l'avevano a morte perché dicevano questi qua non sono mai neanche stati processati sono dei criminali no perché sono stati dei criminali ma no ma i criminali sono sempre gli altri noi portiamo democrazia eccetera infatti volevo leggere anche un passaggio che riguarda riguarda proprio la fine cioè dopo vent'anni di questa roba uno dice vabbè ok avrete ottenuto qualcosa questo è quello che hai scritto tu eh se si pensa agli obiettivi iniziali e alla situazione finale possiamo chiaramente convenire che tutta questa guerra è stata una messa in scena solo per giustificare interessi economici politici di potere nulla a che vedere con la guerra al terrorismo di Washington la war on terror e l'esportazione della democrazia accompagnate dal benessere perché in Afghanistan oltre a vedere per le strade di Sharon Now un certo alzawiri alzawiri non so come si pronuncia camminare tranquillamente i talebani sono tornati al potere con l'aiuto di chi diceva di volerli eliminare e sradicare un ritorno alla base che spiega semplicemente come sia stata tutta una presa in giro che abbia fatto rimpolpare le casse occidentali le industrie belliche e ucciso decine di migliaia di civili per poi abbandonare la preda e lasciarla marcire riconosci queste parole più chiaro di così c'è poco da aggiungere quello che posso aggiungere è che come sappiamo oggi e come vi volevo dire prima era che appunto i talebani vabbè sappiamo tutti che sono stati fondati sono stati sostenuti anche dagli Stati Uniti negli anni 80 contro i sovietici va bene questo ormai è il segreto di Pulcinella ma ci sono stati anche dei risvolti durante la guerra molto interessanti per esempio si sapeva attraverso politici o qualcuno che loro alcuni politici parlavano a ruota libera politici del parlamento afgano no e dicevano noi sappiamo benissimo che i talebani e lo stato islamico Khorasan che è la famosa branchia eh la branchia afghana del famoso stato islamico eccetera anche quelli fantomatici venivano eh foraggiati dal governo afgano eh e soprattutto anche dalla Nato perché? Perché faceva comodo quindi quando una volta che uno ti ha detto una roba del genere dici ma scusa ma che senso ha tutta sta storia? e allora capisci che c'è qualche cosa sotto il più grande che esula completamente dal fatto di dire andiamo a combattere il terrorismo eccetera eccetera anche perché è ridicolo e se pensiamo per esempio dopo la caduta cioè dopo scusate la partenza della Nato dall'Afghanistan e l'arrivo dei talebani gli Stati Uniti che non volevano ridare nove miliardi alla banca centrale afghana quella non era una mostra perché loro dicevano eh dicevano ah perché se no finanziano il terrorismo con quei nove miliardi non avevano capito niente ma la gente l'opinione pubblica si è fatta prendere dall'impeto dicendo sì è vero perché adesso non fanno studiare le ragazze e finanziano il terrorismo eccetera quando in verità era un discorso di politica monetaria e questo non lo dico io Filippo Rossi lo dice lo dicevano tutti tutti gli ex direttori delle banche centrali della banca centrale Afghanistan durante l'occupazione quindi cioè non lo dico io lo dice gente che ci lavorava dentro è uno scandalo loro hanno cambiato completamente hanno usato i talebani in maniera eh in maniera strategica proprio per andarsene via preparare il terreno alla nuova invasione alla nuova guerra con l'Ucraina perché cronologicamente c'è eh ci ci è proprio una roba eh proprio sequenziale e poi nel frattempo hanno messo questo a questa pedina che poteva essere un po' sfruttata da tutti no? eh per eh mantenere l'Afghanistan in in una situazione eh di scacco totale infatti si è visto che i talebani hanno provato hanno fatto eccetera in verità loro non volevano loro seguivano un programma americano ma anche la storia delle 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 donne è tutta è tutta una messa in scena perché io ho conosciuto talebani del governo proprio di gente anche di gradi abbastanza elevati così che mi dicevano ma questa qua è una follia pura no? noi vogliamo aprire il paese al mondo ma c'erano delle forze delle forze superiori eh nei ranghi alti dei talebani proprio dei ministri eccetera che non volevano ma questo perché? Perché gli veniva detto di non volere perché chi è che aveva in mano il potere dei talebani? Ce l'aveva il Qatar che gli ha messi al potere e chi era il Qatar? Il Qatar sono gli Stati Uniti quindi ritorniamo sempre al solito discorso gli Stati Uniti hanno usato i talebani come negli anni 90 li hanno rimessi lì perché serviva rimettere lì qualcuno e adesso si vede che cosa qual è la situazione visto che stiamo parlando hai nominato l'Ucraina chiudiamo con l'Ucraina secondo te opinione personale questo questo balletto che sembra essere iniziato negli ultimi giorni per il quale si comincia a fare come dire a fare vedere la possibilità che Zelensky accetterebbe di cedere i territori conquistati dai russi in cambio di un'annessione molto rapida eh nella Nato secondo te è realistica o no? Ma abbiamo sentito un po' di tutti i colori negli ultimi negli ultimi mesi negli ultimi anni su circa quello che questo Zelensky dovrebbe o non dovrebbe fare la realtà dei fatti secondo me è che eh sta capitolando ormai si parla di una capitolazione ormai da dall'inizio dell'anno forse no? Eh sta capitolando su serio io penso che l'Ucraina sia stata data in pasto ai pesce cani possiamo dire così e che la Nato eh stia cercando di mantenere di mantenere le sue posizioni ma sicuramente non eh non la faranno entrare perché loro sanno benissimo a mio parere che la Russia non accetterebbe mai in una condizione di pace di avere ancora un paese nato che poi alla fine è quello per cui si diceva avessero combattuto eh per tutti questi anni quindi secondo me l'Ucraina non entrerà mai nella Nato semplicemente lei è stata data in pasto ai pesce cani ma la cosa che appunto i soldati ucraini i ragazzi ucraini sono stati dati in pasto ai pesce cani eh mandati al fronte a morire per questi ideali criminali della Nato e quindi eh semplicemente eh gli ucraini stessi non sanno più neanche da che parte guardare perché dicono guardiamo al nostro governo che ci manda al fronte a morire guardiamo all'Europa che ci ha mandati a morire dove guardiamo no? non sanno più neanche loro sono disorientati quindi secondo me il scenario il scenario è adesso con Kursk loro hanno finito perché ormai i russi stanno ri ehm stanno cominciando le avanzate piano piano li rispingeranno oltre le confine stanno avanzando dalla parte della parte della parte orientale ogni giorno conquistano insediamenti nuovi villaggi cittadini eccetera eccetera ormai sono a Kupiansk eh cade Kupiansk cadere Sloviansk eccetera 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 e poi saranno alle porte di Dnipropetrovsk eh fra poco quindi eh l'Ucraina l'Ucraina non si bisogna vedere fino a che punto vuole arrivare la Russia è quello della verità ma fin tanto che la gente comincia a dire dobbiamo accettare un accordo di pace o dobbiamo accettare un accordo di pace e come hanno fatto gli svizzeri hanno invitato soltanto la parte ucraina ignorando quella russa non si può fare niente la Russia deve anche lei deve stabilire chiaramente quello che vuole no? Perché non si capisce neanche la Russia quello che vuole veramente volete tutta l'Ucraina o volete una parte dell'Ucraina e la Polonia che cosa vuole e questo perché ci sono tanti interessi quindi secondo me l'Ucraina per concludere non entra mai nella Nato perché la Russia è eh diciamo una delle delle dei prerequisiti che eh sin dall'inizio del conflitto eh erano apparsi come evidenti no? E quindi oltre a non entrare mai nella Nato verrà secondo me divisa e perderà completamente il suo eh non diventa non sarà neanche più uno stato molto probabilmente no? Quindi eh c'è anche un c'è anche un fatto tecnico cioè conviene quasi alla Russia mantenere lo stato di guerra perché fino a che è in stato di guerra proprio tecnicamente l'Ucraina non può entrare nella Nato lo lo dice lo statuto della Nato nessuna nazione che è in guerra può ovviamente può entrare nella Nato perché sennò trascina automaticamente in guerra tutti gli altri paesi della Nato. quindi forse non ci non hanno neanche questa gran fretta potrebbe essere l'eccezione che conferma la regola che il fatto che le statuti in Nato servono 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 fin quando non fanno fin quando non fanno comodo a qualcuno io voglio dire eh quello che potremmo dire è che appunto uno dice ok questi entrano nella Nato è il pretesto per entrare tutti in guerra che è un po' quello che si teme no? ma insomma io non me la vedo ma anche perché per far entrare l'Ucraina nella Nato ci vuole la firma di tutti i membri quindi ciascun membro accettando di far entrare un paese in guerra sa benissimo che entra in guerra anche lui non so fino a che punto basta un paese come l'Italia come la Spagna non penso che sia uno scenario no non è non è non è non penso sia uno scenario va bene senti hai altri stai lavorando solo il tuo questo qui è io non l'ho letto tutto ma le parti che ho letto sono veramente toccanti specialmente gli incontri con le persone cioè è molto umano come libro non è affatto un libro come dire militare un libro molto umano perché hai raccontato delle storie personali di gente incontrata cioè capisci veramente la differenza tra stare davanti a un televisore e andare sul posto e camminare con i piedi per terra dove c'è una guerra davvero è umano perché mette il civile al centro dell'attenzione cosa che spesso i staggisti dimenticano di fare io sono andato in tutte le zone di cui parlo quindi sono 44 casi se non sbaglio ho dovuto scremare immaginati massimo ho dovuto scremare la gente i casi che avevano magari un morto due morti perché volevo prendere quelli più grandi per dare un'idea ma erano talmente tanti i casi di morti dovute a nato che non potevo proprio raccoglierli tutti sarebbe stato troppo lungo come lavoro allora ho deciso di soffermarmi un caso a provincia insomma i civili mi hanno accolto dormito con loro parlato con loro ho fatto dei viaggi tremendi a volte i giorni in mezzo alla pampa totale dove non c'erano nemmeno le strade la gente andava ancora a cavallo o calcolava le distanze a giornate di marcia come nel medioevo quindi quello che diceva per arrivare a casa ci metto due giorni allora dicevo ma tu sei venuto a piedi per parlare con me hai fatto due giorni di marcia e mi diceva sì 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 lo diceva normalmente è un libro è un libro vissuto infatti stiamo come occidente stiamo lasciando dietro una striscia di errore che è qualcosa di veramente vergognoso cioè fra 100 200 anni quando qualcuno riguarderà indietro la storia di quello che abbiamo fatto noi come cosiddetto occidente democratico sarà veramente uno dei momenti più bassi secondo me della della vicenda umana filippo ti ringrazio per la chiacchierata ci sentiamo presto spero che qualcuno si è interessato al tuo libro lo compri grazie di tutto e arrivederci grazie massimo buona serata a tutti grazie massimo buona serata a tutti Grazie a tutti.